Musica Mi ricorda quello che sono stato, anch'io sono partito come loro da una scuola calcio piccola Il percorso è stato lungo, bellissimo e oggi mi ritrovo a festeggiare la promozione in Serie A Una cosa che magari ogni bimbo sogna da bambino Qualche settimana fa io ci sono riuscito, è stata una bella emozione, mi sono contento Bene, vicino a un campione, tu che sei uno dei chiacchieroni della scuola Tonino Cisterna Quest'anno in campionato come siete arrivati? Beh, ci siamo impegnati e siamo riusciti ad arrivare quinti A chi ti ispiri come ruolo di portiere? Ce ne sono vari, tra cui preferisco Andanovic, Montipò del Benevento e Meret Diciamo che quindi hai dei grossi nomi, già i tuoi canali ben delineati? Esattamente, sì, preferisco il loro tipo di parate, il loro tipo di movimenti, tutte queste cose così Cioè preferisco il loro modo di fare, anche come stanno in porta, che parlano molto con i compagni È importante sapere che c'è Sergio che ha fatto una lunga carriera e mi può dare dei consigli giusti Quello che magari a me un po' è mancato, però fortunatamente sono stato bravo, un po' fortunato nel mio percorso E fortunatamente sono comunque arrivato a giocare a buon livello Però avere un responsabile che comunque ha giocato e ti permette di poter dare dei consigli così importanti È importante per i ragazzi e soprattutto a quest'età è un valore aggiunto per la scuola calce Le cifre di quest'anno, Sergio, e soprattutto il consuntivo di questa stagione 2018-2019? No, è stata un'annata positiva, abbiamo avuto un'ottima crescita La cosa bella è che già da adesso mi chiamano per portare i loro figli nella nostra scuola calcio Quindi vuol dire che io con i miei collaboratori stiamo facendo un buon lavoro E questo ci gratifica molto, perché un paesino come Bucciana avere tutti questi iscritti oggi non è facile Ma loro sono la nostra speranza e ci riempiono sempre di orgoglio Danno la testimonianza che quello che stiamo facendo, che abbiamo fatto, ha un senso e ha avuto un senso Noi per quanto ci riguarda continueremo, continueremo a fare il nostro dovere come amministrazione A favore dei giovani sempre e dello sport La presenza di Biaggio questa sera ci inorgoglisce ovviamente Lui è un nostro conterraneo di Luzzano, di Moiano Però noi lo sentiamo molto vicino, è il nostro fratello lui e la sua famiglia in generale Che dire, ci riproveremo l'anno prossimo pensando di fare meglio Ma il merito non è dell'amministrazione Noi abbiamo dato solo lo strumento, le attrezzature, il campo Il merito sicuramente va a Sergio, a Tonino Cisterna che dall'alto ci da una mano e ci guida E a tutti i giovani ragazzi di Bucciano e anche dei paesi limitrofi Che con entusiasmo credono in questa avventura Io inizialmente ero scettico per la verità Pensavo che si trattasse del solito tentativo di una scuola di calcio Fatta per pochi bambini invece adesso raccoglie centinaia di ragazzi, di persone Ma la cosa bella e simpatica è che Sergio riesce a coinvolgere anche le famiglie Quindi è una festa di sport, è una festa dello sport E stasera si conclude un anno eccellente, brillante E noi speriamo che l'anno prossimo sia ancora migliore Con l'occasione per fare gli auguri a Biaggio Speriamo di averlo tra di noi anche nei prossimi giorni per un altro evento Grazie No ma niente io non ho avuto modo o almeno sono poche le occasioni che incontra il sindaco Però io volevo fare i complimenti perché fare una struttura così come a Bucciano Sappiamo che nella zona non c'è e di questo insomma E ne faccio i complimenti di persona perché giro un po' l'Italia Ho avuto modo di girare e purtroppo senza strutture si può fare poco Quindi adesso che siamo qui insomma ne approfitto per fare i complimenti